e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi faremo un video di Fortnite facciamo creativa riempi giuro ragazzi che si mettono qua si mettono 1v1 map giuro che quitto e vado a fare la nuova modalità che hanno messo quella della nebbia speriamo, speriamo bene che non ci sia quella mappa di schifo allora ragazzi speriamo ma io spero un sacco perché se no guarda mi da un fastidio quella mappa l'ho vista così tante volte che non la voglio più vedere lo sapete voi di easter egg delle bottiglie andate faccio vedere un secondo vi faccio vedere giusto giusto un secondo guardate allora voi andate qua di fianco qua andate qua sopra qua e c'è scritto prima in una bottiglia off mystery qui non mi ricordo dove è la porta quella del codice voi ragazzi dovete andare dove è la bottiglia quella del codice non mi ricordo dove dovete andare perché la bottiglia vabbè insomma vediamo se c'è qualcosa di buono allora nella box fight perfetto non c'è nessuno non l'ho preferito non c'è nessuno trevi 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 box fight pvp dai vieni vieni box fight pvp dai vieni vieni dio mio vieni no no non provare a cambiare non provare a cambiare ok andiamo ci siete tutti ok perfetto ragazzi io mi devo riscaldare perché è da un bel po' che non gioca fortnite è da un bel po' è da un casino un casino un casino un casino non gioca fortnite quindi facciamo teaming andiamo giù da qua ok lei è scesa easy è un bot è un casino va bene raga cioè no 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 non è possibile devo parlare per forza com'è che faccio teaming con questo qua qualcuno si deve uccidere voi suicido io Dio mio muto tutti allora grazie per il pesce grazie allora allora aspettate un secondo ragazzi ok allora oh cosa ho fatto faccio così faccio così così pum allora ragazzi vediamo se questo qua capisce qualcosa nella sua vita se capisce qualcosa allora vuol dire che c'è c'è nella testolina no si sono uniti un altro si sono uniti altri due oh ma Dio mio ecco è impossibile allora ecco è impossibile qui eh vabbè eh vabbè flash hot ti fa schifo sulle due perché quanto perché quanto eh vabbè vabbè fanno teaming fanno teaming fanno teaming boom torna al 100 semplice ragazzi semplicissimo come andare liscio 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 allora vieni qua tu vieni vieni vuoi venire vuoi venire vuoi venire vuoi venire ragazzi vado un attimo nella mia isola allora ah vedo vabbè allora abbandone metto creativa nozienpi perché voglio allenarmi un po' e allora mi allenerò un po' dun 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 allora ragazzi sì taglierò ste baratte no vabbè no vabbè allora ragazzi scusate se sentite un po' di casino ma mi sono noto il telefono ecco lo ecco lo e ma vi volevo farvi vedere come costruisco se perché cioè io sono in un team ma fa schifo però va bene quel team fa veramente schifo fa schifo 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 il team si chiama schifo ed non c'ha senso non c'ha senso veramente 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 se vi siete persi il primo video andatelo a rivedere e non perdetevelo perdetevelo se vedete un po' di casino è nella mia isola perché non è perché ecco è perché stavo facendo cose del genere tipo queste cose qua queste cose qua queste cose qua queste cose qua ma perché io faccio solo questa scala cioè va bene se vedete questa cosa qua no allora prima di tutto i 90 sono easy da fare però quelli senza saltare ma perché ho parlato perché ho parlato e non ho fatto un 90 bene perché io parlo allora ragazzi provo quelli senza saltare non li so fare eh ve lo dico ecco no dai no no ok 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 no 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 devo fare i i retake che schifo che schifo veramente bellissimi bellissimi basta 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 no eh vabbè devo mettere anche la scala vai si mettere di più no eh miau fischini vai se faccio schifo a fare i retake cioè non li faccio non li faccio cioè io non li facevo pick out ecco che già sbaglio mille volte no 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 son finito ah è vero che se devo mettere anche il pavimento eh vabbè oltre questo muro troverete una città l'avete già visto insomma oltre questo muro c'è in realtà tutto questo muro è solo questa cosa guardate che bello che bello no che fastidio dopo un po' ti dà fastidio faccio schifo faccio schifo faccio schifo faccio schifo faccio schifo ragazzi vediamo com'è che bello che bello aspettate no devo per forza mettere cosa 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 proviamo il campo di forza blu no 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 fa schifo fa schifo fa schifo a me piaceva non c'è tipo oro noi ci accontentiamo così così va benissimo tanto sono qua dentro c'è perché io volevo fare un film no no volevo fare un film e allora non ci sono riuscito e e allora volevo eh no eh no vole no eh no eh no ragazzi non va bene volare sto premendo tasti a casa e non chiedetemi perché perché cerco di essere bravo cioè io i 90 da switch li facevo così oh no che fastidio dov'è il coso che lo voglio fare più grande più grande che fastidio sto cos'ha ragazzi è ufficialmente diventato no è troppo è troppo grande no ragazzi dobbiamo dobbiamo diminuire dobbiamo diminuiamo qua è quando sto vedendo allora io le scale oh ragazzi guardate quanto sono bravo da joystick ok dai lo smetto no ragazzi dov'è l'ho perso dov'è dov'è ah eccola forse è un po' troppo mettiamo un 40 va bene un 40 speriamo di sì no perché se non va bene un 40 non so cosa mettere oh un 40 va bene forse possiamo fare anche un un cosino possiamo fare anche un pochino in più tipo un 50 no no lasciamo il 40 lasciamo il 40 che è bello così 40 allora io non so cosa fare quindi allora cosa possiamo fare possiamo cambiare gioco basta e ciao a tutti ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ciao ciao